Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo andiamoci dentro col video. Immaginate di trasferirvi nella casa dei vostri sogni. L'eccitazione che ne deriva vi lascia pensare che stiano per arrivare soltanto tempi felici. Poi, solo dopo aver effettuato l'acquisto, scoprite che la casa dei vostri sogni nasconde uno scuro segreto. Potrebbe sembrare la premessa di un film dell'orrore su una dimora infestata, ma non lo è. In questa casa non ci sono fantasmi e l'unica minaccia è una persona in carne e ossa che vuole spaventarvi. Questa è la vera storia dell'osservatore di Westfield. È una notte di giugno 2014, quando Derek Broaddus, dopo aver passato la serata a ridipingere le pareti della nuova casa a Westfield, nel New Jersey, esce per controllare la posta. Tre giorni prima, Derek e sua moglie Maria sono giunti alla contrattazione per l'acquisto di un immobile edificato su un terreno di mezzo acro, situato al 657 di Boulevard e dotato di sei camere da letto. I coniugi stanno provvedendo ad alcune ristrutturazioni prima di trasferirsi, quindi, nella cassetta, la posta scarseggia al di là di alcune bollette e di una strana busta bianca con biglietto. La lettera al suo interno è scritta con una calligrafia spessa e pesante ed è indirizzata al nuovo proprietario. Come siete finiti qui? chiede il mittente anonimo. Questa casa vi ha chiamato attraverso la sua forza interiore? La casa del 657 di Boulevard è un affare della mia famiglia da decadi, ormai, e adesso, con l'avvicinarsi del suo centodecimo compleanno, io sono stato incaricato di guardarla e aspettare il suo secondo tempo. Mio nonno osservò la casa negli anni venti e mio padre negli anni sessanta. Ora è il mio turno. Ditemi, conoscete la storia della casa? Sapete cosa si nasconde tra le pareti? Perché siete qui? Lo scoprirò. Oltre ad avere un contenuto inquietante, la lettera identifica il minivan Honda della famiglia, così come i lavoratori che stanno ristrutturando la casa. Infatti, l'autore misterioso scrive anche Vedo che avete inondato la casa di appaltatori, la state distruggendo, eppure dovrebbe rimanere immutata. Pessima mossa. Volete forse rendere infelice la casa? All'inizio della settimana Derek e Maria si recano alla nuova casa e chiacchierano con i loro nuovi vicini. Intanto i loro figli di 5, 8 e 10 anni corrono per il giardino con altri bambini del quartiere. L'autore della lettera pare averlo notato, infatti scrive nuovamente Avete dei bambini, li ho visti. Finora sono riuscito a contarne tre. Per caso ce ne sono altri in arrivo? Avete bisogno di riempire la casa di sangue giovane, come vi ho richiesto? Meglio per me. La vostra vecchia casa era troppo piccola per la vostra famiglia numerosa? O è l'avidità che vi ha spinto a portare da me i vostri figli? Una volta che saprò i loro nomi li chiamerò e li attirerò a me. Chi sono? Ci sono centinaia e centinaia di automobili che guidano di fronte alla casa ogni giorno. Forse mi trovo in una di esse. Osservate tutte le finestre che potete vedere dalla vostra casa. Forse sono davanti a una di esse. Guardate fuori da una qualsiasi delle tante finestre della casa. Osservate tutte le persone che passano ogni giorno. Forse sono una di loro. Benvenuti amici miei, benvenuti, chi abbia inizio la festa. Firmato l'osservatore. Questa lettera è più sinistra e spaventosa della precedente e menzione i figli dei Broaddust, sangue giovane. Il mettente lascia bene intendere che lui o lei avrebbe prestato attenzione a quali persone avrebbero occupato le varie stanze. Sono passate le 10 di sera quando Derek legge la lettera ed è solo. Corre in tutta la casa per spegnere le luci così che nessuno possa sbirciare dentro. Poi chiama il dipartimento di polizia di Westfield. Un agente lo raggiunge, legge la lettera ed esclama ad altavoce Ma chi diavolo è questo? Chiede a Derek se per caso avesse dei nemici e gli consiglia di rimuovere le attrezzature per la ristrutturazione dal portico nell'ipotesi in cui l'ambiguo osservatore intenda lanciarle attraverso la finestra. Derek torna alla svelta dalla moglie e dei figli che vivono nella loro vecchia casa sempre a Westfield. Quella notte Derek e Maria scrivono un'email a John e Andrea Woods la coppia che aveva venduto loro la casa per chiedere se avessero idea di chi fosse l'osservatore o del perché avesse scritto nella lettera Ho chiesto ai Woods di portarmi sangue giovane Pare mi abbiano ascoltato La signora Andrea Woods risponde la mattina successiva poco prima di traslocare In effetti anche loro avevano ricevuto una lettera dall'osservatore La lettera era strana, spiega Andrea Menzionava la famiglia dell'osservatore che teneva d'occhio la casa da tempo Ma lei e suo marito non avevano mai ricevuto nulla di simile nella posta durante i 23 anni vissuti in quella casa Così avevano cestinato la lettera senza pensarci troppo Quel giorno i coniugi Woods vanno con Maria alla stazione di polizia dove il detective Leonard Lugo le dice di non parlare con nessuno delle lettere inclusi i nuovi vicini Tutti ora sono dei sospettati I Brothers passano le settimane seguenti in stato di allerta Derek cancella un viaggio di lavoro e ogni volta che Maria porta i bambini nella nuova casa li chiama urlando il loro nome appena si aggirano in qualche angolo del giardino Poi accade una cosa davvero inquietante Derek mostra come procedono i lavori di ristrutturazione a una coppia che vive nell'isolato e rimane paralizzato quando la donna dice Sarà bello avere del sangue giovane nel quartiere Una mattina l'appaltatore generale dei Broaddus scopre che un pesante cartello che aveva piantato a martellate nel cortile era stato strappato durante la notte A due settimane dall'arrivo della lettera da parte dell'osservatore Maria si reca alla casa nuova per valutare alcuni campioni di vernice e per controllare la posta Appena infila la mano nella cassetta afferra un'altra busta contenente un biglietto scritto con la solita calligrafia nera e spessa Dunque contatta la polizia Benvenuti di nuovo nella nuova casa Gli operai sono stati molto impegnati e li ho osservati scaricare automobili piene dei vostri effetti personali Hanno già trovato cosa c'è nei muri? Col tempo lo troveranno Questa volta la lettera è indirizzata direttamente ad Eric e Maria Ma il mittente sbaglia a scrivere i loro nomi L'osservatore era riuscito ad avvicinarsi abbastanza da sentire uno degli appaltatori rivolgersi a loro? In effetti l'osservatore si vanta di aver appreso molte notizie sulla famiglia nelle settimane precedenti specialmente sui figli La lettera li identifica per ordine di nascita e per i loro soprannomi quelli che Maria aveva urlato Ho piacere di conoscere i vostri figli e i nomi del sangue giovane ossia dei vostri figli che mi avete portato Certamente pronunciate spesso i loro nomi L'autore della lettera chiede poi di una bambina in particolare L'aveva vista usare un cavalletto seminascosto all'interno del portico e domanda E' lei l'artista della famiglia? La lettera prosegue ancora La casa al 657 di boulevard è ansiosa che vi trasferiate Sono passati anni e anni da quando il sangue giovane riempiva i corridoi della casa Avete già scoperto tutti i segreti che nasconde? Il sangue giovane giocherà nel semainterrato? O forse sono troppo spaventati per andare là sotto da soli? Avrei molta paura se fossi loro È lontano dal resto della casa Se foste al piano di sopra non li sentireste urlare? Dormiranno nell'attico? O dormirete tutti al secondo piano? Chi occuperà le camere da letto che affacciano sulla strada? Lo saprò non appena vi trasferirete Mi aiuterà a sapere chi si trova nelle varie camere da letto Così potrò pianificare meglio Chi sono io? Sono l'osservatore Ho il controllo della casa 657 di boulevard da quasi 20 anni La famiglia Woods l'ha ceduta a voi Era arrivato il momento per loro di andare avanti E gentilmente l'hanno venduta quando gliel'ho chiesto Ci passo davanti molte volte ogni giorno Osservare la casa è il mio lavoro La mia vita La mia ossessione E ora lo siete anche voi, mia cara famiglia Benvenuti nel prodotto della vostra avidità L'avidità è ciò che ha condotto le tre famiglie precedenti in questa casa E ora ha portato voi da me Vi auguro un felice giorno di trasloco Sapete che vi osserverò Derek e Maria smettono di portare i figli alla casa nuova Inoltre non sono più sicuri di quando o se si sarebbero trasferiti Molte settimane dopo giunge un'altra lettera Dove siete andati? Scrive l'osservatore La casa sente la vostra mancanza Forse non lo sapete Ma Westfield si trova a 45 minuti da New York E i 30.000 abitanti della città sono in gran parte famiglie benestanti Un'attività che tutti gli abitanti del luogo riconoscono come insidiosa È proprio l'acquisto di un immobile C'è molto denaro e molto ego Dice un residente Discutendo della realtà immobiliare di Westfield Ho visto guerre di offerte in cui degli amici hanno perso l'occasione Per una differenza di 300.000 dollari Come detto la casa dei Broaddus si trova su Boulevard Una strada ampia e alberata dove si collocano alcune delle case più desiderate della città Come aveva sottolineato l'osservatore Boulevard era la strada in cui vivere Ce l'avevi fatta se vivevi a Boulevard Costruita nel 1905 la casa 657 di Boulevard era forse la più imponente dell'isolato E quando i Woods l'avvisero sul mercato ricevettero numerose offerte superiori al prezzo richiesto Questo inizialmente porta i Broaddus a sospettare che l'osservatore possa essere qualcuno arrabbiato Perché non è riuscito ad acquistare la casa Ma i coniugi Woods spiegano alla coppia che un acquirente interessato si era tirato indietro dopo una brutta diagnosi medica Mentre un altro aveva già trovato un'altra casa In un'e-mail al Broaddus Andrea Woods propone un'altra teoria e scrive La menzione dei camion dell'appaltatore e dei vostri figli potrebbe suggerire che si tratta di qualcuno del quartiere Le lettere in effetti sono prova di una certa vicinanza perché erano partite da Kenry, il centro di distribuzione del servizio postale degli Stati Uniti nel nord del New Jersey La prima era stata spedita il 4 giugno prima che la vendita fosse resa pubblica Infatti Woods non avevano mai apposto un cartello con scritto venduto E solo un giorno dopo che arrivassero gli appaltatori I lavori di ristrutturazione erano poi per lo più interni Quando Derek e Maria accompagnano il detective Lugo in giro per casa Gli mostrano che il cavalletto sul portico è nascosto dalla strada e dalla vegetazione Ciò rendeva difficile vederlo A meno che qualcuno non si trovasse dietro la casa o proprio lì accanto Alcuni giorni dopo la ricezione della prima lettera Maria e Derek erano andati a un barbecue party Da un vicino che voleva dare il benvenuto sia a loro che a un altro nuovo arrivato nell'isolato L'uomo abitava dall'altra parte della strada I Broaddus non avevano detto a nessuno dell'osservatore Come aveva richiesto la polizia E durante la festa si guardavano intorno in cerca di indizi Tenevano d'occhio anche i figli che correvano tra la folla di invitati Cioè tra i principali sospettati Continuava a gridare loro di stare vicini, racconta Maria Le persone devono aver pensato che fossimo pazzi A un certo punto Derek stava chiacchierando con John Schmidt Che abitava due case più in là Quando l'uomo gli parla dei Langford Un'altra famiglia residente nelle vicinanze Peggy Langford aveva circa 90 anni Diversi dei suoi figli erano adulti Circa sulla sessantina E vivevano con lei Secondo Schmidt la famiglia era un po' strana Ma innocua Derek pensò che il caso fosse risolto Dalla casa dei Langford infatti era visibile il cavalletto sul portico La famiglia viveva lì dagli anni 60 Quando il padre dell'osservatore, secondo le lettere, aveva iniziato a osservare la casa al 657 di Boulevard Richard Langford, il patriarca della famiglia, era morto 12 anni prima E l'attuale osservatore sosteneva di essere al lavoro da quasi due decenni Quando i Broaddus parlano all'ugo della famiglia Lui risponde che nutriva già dei sospetti Una settimana dopo l'arrivo della prima lettera Aveva portato Michael Langford, uno dei figli di Peggy Alla centrale di polizia per un interrogatorio Michael aveva negato di sapere qualcosa della lettera Ma, anche se fosse stato lui a scriverla Non c'erano prove a riguardo Dopo qualche settimana il capo della polizia dice ai Broaddus Che, senza una confessione Non c'è molto che il dipartimento possa fare Derek però insiste Qualcuno ha minacciato i miei figli Ma la polizia risponde Probabilmente non succederà nulla Derek ribatte a sua volta Probabilmente non è abbastanza per me Dopo la seconda lettera di cui vi ho parlato Derek dice ai poliziotti Che se non si fossero fatti carico della situazione Presto avrebbero avuto per le mani un altro tipo di caso Ben più grave Questa persona ha attaccato alla mia famiglia E da dove provengo io? Se fai questo poi ti rompono il culo Dice Derek Frustrati i Broaddus iniziano la loro personale indagine Derek diventa particolarmente ossessionato Installa delle webcam e passa le notti accovacciato al buio Controllando se qualcuno osservi la casa da vicino I Broaddus si rivolgono anche a diversi esperti Assumono un investigatore privato che sorveglia il quartiere ed effettua dei controlli sui precedenti dei Langford Ma non trova nulla che sia degno di nota Derek si rivolge a un ex agente dell'FBI Assume anche un secondo ex agente dell'FBI Robert Lennon affinché effettui una valutazione della minaccia Lennon riconosce nelle lettere alcuni tratti vecchio stampo che apparterebbero a un autore anziano La busta è indirizzata a Mister e Mirce's Broaddus I saluti includono un riferimento al clima della giornata Caldo e umido Soleggiato e fresco per una giornata estiva E le frasi presentano doppi spazi tra le parole Forse, si chiede la gente L'osservatore aveva visto The Watcher Il film con Kenny Reeves Nei panni di un serial che perseguita il detective che cerca di catturarlo Lennon non pensa che l'osservatore agisca perché si sente minacciato Inoltre, le lettere mostrano diversi errori di battitura Sviste e refusi che implicano una certa erroneità Ad esempio, la prima lettera era datata martedì 4 giugno Ma quel giorno era un mercoledì Emerge anche una rabbia ribollente e diretta in particolare ai ricchi L'osservatore era infastidito dalle famiglie benestanti in arrivo in città E dalle ristrutturazioni non proprio modeste dei Broaddus Infatti scrive La casa sta piangendo per tutto il dolore che sta vivendo L'avete cambiata e resa così elegante State rubando la sua storia Piange per il passato e per quello che c'era all'epoca In cui camminavo all'interno delle sue mura Gli anni 60 sono stati un bel periodo per la casa Quando correvo da una stanza all'altra La casa era piena di vita e di sangue giovane Poi è invecchiata e così anche mio padre Ma lui ha continuato a osservare fino al giorno della sua morte E ora io guardo e aspetto il giorno in cui il sangue giovane sarà di nuovo mio Leinen propone di fare ricerche sugli ex possedenti della zona E sui loro discendenti Forse l'osservatore è geloso del fatto che i Broaddus hanno comprato una casa Che lui non poteva permettersi Ma l'attenzione rimane sui Langford In collaborazione con la polizia di Westfield I Broaddus inviano una lettera ai Langford Annunciando i loro piani di abbattere la casa Sperando di ottenere una risposta Ma non succede nulla Il detective Lugo porta in centrale Michael Langford Per un secondo interrogatorio Che però si rivela inutile Inoltre sua sorella Abby accusa la polizia di molestare la loro famiglia I Broaddus assumono anche un avvocato Lee Levitt Che incontra diversi membri della famiglia Langford E il loro avvocato Mostra loro le lettere insieme a delle foto Per sostenere che la casa dei Langford È uno dei pochi punti di osservazione Dai quali si poteva osservare il cavalletto L'incontro si fa teso E i Langford insistono sul fatto che Michael è innocente Una notte Derek fa un sogno in cui affronta Peggy Langford E le chiede di costruire una recinzione alta due metri e mezzo Tra le proprietà Maria invece fa altri sogni Una notte si sveglia proprio a causa di un incubo particolarmente vivido Su un uomo che vive nelle vicinanze Indossava stivali, portava un forcone, chiamava i bambini e io non riuscivo a raggiungerli in tempo Racconta Maria Pensa che quasi chiunque possa essere l'osservatore Il che fa sembrare la vita quotidiana un labirinto di minacce Maria scrute i volti dei clienti del negozio di alimentari Trader Joe Per vedere se guardano in modo ambiguo i suoi figli E passa ore a fare ricerche su Google su chiunque le sembri sospetto Ci sono delle buone ragioni per considerare altri sospettati Innanzitutto la polizia aveva parlato con Michael prima che la seconda lettera fosse spedita Il che avrebbe reso l'invio delle due lettere successive Particolarmente avventato per lui Poi c'è da considerare il resto del vicinato Anche Bill Woodward, l'imbianchino dei Broaddus Nota qualcosa di strano La coppia che abita dietro la casa ha posizionato un paio di sedie da giardino Stranamente vicine alla proprietà dei Broaddus Un giorno stavo guardando fuori dalla finestra E ho visto un uomo anziano seduto su una delle sedie Racconta Woodward Non era rivolto verso casa sua ma verso la proprietà dei Broaddus Alla fine del 2014 l'indagine giunge però a un punto di stallo L'osservatore non lascia alcuna traccia digitale Né impronte digitali Né qualsiasi altro indizio per identificarlo Le lettere spedite da New Jersey Rischiano di essere liquidate come innocui vaneggiamenti di un sociopatico Era come cercare di trovare un ago in un pagliaio Dice Scott Krause Che ha aiutato a investigare sul caso per l'ufficio del procuratore della contea di Union A dicembre la polizia di Westfield dice ai Broaddus Che non ci sono più alternative o piste da seguire Derek in un ennesimo tentativo mostra le lettere al suo sacerdote Il quale accetta di benedire la casa I lavori di ristrutturazione della casa 657 di Boulevard Incluso un nuovo sistema di allarme Vengono completati nel giro di pochi mesi Ma l'idea di trasferirsi genera nei Broaddus un'ansia incontelibile Possono lasciar giocare i loro figli all'aperto e invitare amici? Avrebbero ricevuto una nuova lettera ogni settimana? Derek valuta l'acquisto di cani da pastore tedesco addestrati E pubblica un annuncio di lavoro su un sito web per veterani militari Scrivendo tutto quello che dovete fare è allenarvi in giardino ogni giorno Ma i Broaddus non hanno di certo comprato quella casa per sentirsi come rinchiusi in una fortezza Alla fine dei conti si tratta di capire cosa siamo disposti a rischiare Dice Maria Non vogliamo mettere i nostri figli in pericolo Erano così felici della loro nuova casa e poi nel giro di pochi giorni sono rimasti pietrificati Piega Bill Woodward L'imbianchino Io sono un estraneo e Maria piangeva e tremava tra le mie braccia Sottolinea l'uomo Non aiuta il fatto che l'osservatore sembra diventare sempre più scostante In un'altra lettera scrive La casa si sta rivoltando contro di me mi sta dando la caccia non capisco perché Che incantesimo le avete fatto era mia amica e ora è mia nemica Non è lei che comanda su di me respingerò le sue malvagità e aspetterò che diventi di nuovo buona Non mi punerà mi alzerò ancora sarò paziente e aspetterò che tutto questo passi e che voi mi riportiate il sangue giovane La casa ha bisogno di sangue giovane ha bisogno di voi Tornate lasciate che il sangue giovane giochi ancora come io facevo una volta Lasciate che il sangue giovane dorma nella casa smettete di cambiarla e lasciatela in pace I Broaddus vendono la loro vecchia casa ma si trasferiscono dai genitori di Maria Continuando a pagare il mutuo e le tasse sulla casa 657 di Boulevard Raccontano delle lettere soltanto a una manciata di amici mentre tutti gli altri si chiedono perché non si trasferiscano Stanno forse divorziando? Questioni legali rispondono i Broaddus In effetti ormai i coniugi litigano continuamente e iniziano a prendere delle medicine per riuscire a dormire Derek si definisce un relitto depresso mentre Maria decide di andare da un terapeuta a seguito di una visita di routine dal dottore Quando il dottore le chiede come stai Maria scoppia a piangere Il terapeuta spiega a Maria che soffre di stress post-traumatico e che se non si fossero liberati della casa Il maressere non sarebbe mai scomparso Sei mesi dopo l'arrivo delle lettere i Broaddus decidono di vendere l'immobile Inizialmente lo mettono in vendita a un prezzo superiore rispetto a quello pagato per l'acquisto Tenendo conto dei costi sostenuti per i lavori di ristrutturazione Ma nel mondo immobiliare della periferia del New Jersey le voci girano e tutti si chiedono perché la casa sia già di nuovo in vendita Un broker manda un'email per comunicare che un suo cliente ama quella casa Ma circolano tante voci strane in giro Qualcuno per caso è solito perseguitare coloro che la abitano? I Broaddus inviano una spiegazione parziale menzionando le lettere dello sconosciuto agli acquirenti interessati Dicono allora gente di franchising immobiliare Coldwell Banker che intendono mostrare le lettere complete a chiunque avesse fatto un'offerta Diverse offerte preliminari vengono presentate molto al di sotto del prezzo richiesto E i Broaddus non sono pronti a subire una simile battosta finanziaria Vogliono condividere le lettere soltanto con i veri potenziali acquirenti Neanche a seguito dell'abbassamento del prezzo le offerte fatte si avvicinano all'importo richiesto Un agente della Coldwell Banker che non ha mai letto le lettere scrive ai Broaddus in un'email che non c'è bisogno di mostrarle e aggiunge Una mia amica ha ricevuto orribili lettere di minaccia per l'abbaiare del suo cane e non ha pensato di renderle note Ma dire che Maria insistono, pensano che forse avrebbero scelto diversamente se i precedenti proprietari avessero detto loro della lettera ricevuta dall'osservatore I Wood, entrambi scienziati in pensione, avevano detto ai Broaddus che ricordavano la lettera ricevuta più come strana che come minacciosa Del resto il mittente misterioso li ringraziava per essersi presi cura della casa Dissero inoltre di non aver mai avuto problemi Di certo non ci siamo mai sentiti osservati, racconta Andrea Addirittura, raramente chiudevamo le porte a chiave Ma i Broaddus ritengono che anche la sola definizione del mittente, appunto l'osservatore Era abbastanza minacciosa da meritare di essere menzionata alla nuova famiglia che intendeva trasferirsi Il 2 giugno del 2015, un anno dopo aver comprato la casa, i Broaddus presentano una denuncia legale contro i Wood Sostengono che loro avrebbero dovuto avvisarli della lettera I Broaddus, tuttavia, sperano di raggiungere un accordo tranquillo I loro figli non sanno ancora dell'osservatore E il loro avvocato assicura loro che, al massimo, soltanto una piccola testata giornalistica che tratta la materia legale Avrebbe potuto raccogliere questa storia Ci occupiamo di alcune storie inquietanti, dice invece il giornalista televisivo Tamron Hall nello show Today Qualche settimana dopo Questa storia potrebbe essere creepy, appunto, inquietante, raccapricciante, da top ten Un giornalista locale aveva trovato la denuncia che includeva dei frammenti delle minacce dell'osservatore Dopo un tardivo tentativo dei Broaddus di ridurla al silenzio, la storia diventa virale Alcuni camion dei notiziari si accampano fuori dalla casa 657 di Boulevard E un giornalista locale sistema una sedia da giardino per condurre il proprio servizio di osservazione I Broaddus ricevono più di 300 richieste dai media Ma ascoltano il consiglio di un consulente per la gestione delle crisi Segnalato da uno dei colleghi di Derek Decidono cioè di non parlare pubblicamente per risparmiare ai loro figli un'attenzione ancora maggiore Lasciano Westfield e si sistemano nella casa al mare di un amico Anche lì però non trovano pace, infatti il nonno di Maria ha un infarto Mentre l'amico che li ha ospitati ha un attacco di grand mal Ossia un tipo di epilessia che comporta convulsioni e perdita di coscienza Alla fine Derek e Maria decidono di parlare ai loro figli Si siedono tutti insieme e i genitori spiegano ai ragazzi la vera ragione per cui non si sono mai trasferiti nella casa nuova I bambini fanno molte domande Chi è l'osservatore? Dove vive questa persona? Perché è arrabbiata con noi? A queste domande Derek e Maria non sanno rispondere Ora che sono più distanti e al sicuro tra virgolette l'osservatore rappresenta un enigma da risolvere Un utente su nj.com suggerisce di utilizzare un radar a penetrazione del suolo Per individuare qualsiasi cosa si trovi nei muri Almeno in base a quanto sostiene l'osservatore Il geometra che aveva seguito i lavori però aveva già esaminato le mura E detto a Derek che l'unico problema stava nella mancanza di isolamento Un gruppo di utenti del sito web di social news Reddit è ossessionato dal caso Studia per ore la zona usando Street View di Google E individua un'automobile parcheggiata davanti alla casa Un utente di Reddit crede che in macchina al posto di guida ci fosse un uomo con una telecamera Altri utenti ben più razionali affermano di aver visto un riflesso pixelato La lista dei sospettati proposti include un amante tradita, un agente immobiliare respinto, il progetto di scrittura creativa di un liceale locale, il marketing per un film horror e i gotici, quindi le persone che vestono uno stile got del centro commerciale che si divertivano a lasciare quelle lettere Alcune persone pensano semplicemente che i Broaddus siano dei pappamolle perché non si sono più trasferiti Per l'esattezza dicono Non avrei mai lasciato che un malato di mente mi impedisse di trasferirmi a casa mia Derek disturbato da questa affermazione ribatte Nessuno di loro ha letto le lettere o ha subito le minacce rivolte ai propri figli da parte di qualcuno che non conoscevano Questa persona dunque si limita a scrivere lettere tetre ma innocue perché è disturbata oppure è davvero intenzionata a fare qualcosa? In realtà a Westfield la gente non ne può più Lauri Clancy che dà lezioni di pianoforte nella sua casa dietro la 657 di Boulevard Spiega che una delle sue studentesse era andata da lei sconvolta dopo che la notizia dell'osservatore si era diffusa La ragazza aveva iniziato a piangere e era terrorizzata all'idea di camminare lungo la strada Racconta la donna Alla prima riunione del consiglio comunale di Westfield dopo che le lettere diventano pubbliche Il sindaco Andy Schibitzki assicura che l'osservatore non si faceva più sentire da un anno E che anche se la polizia non aveva risolto il caso le investigazioni erano state esaustive Questa è una news per i vicini di casa la maggior parte dei quali non aveva mai saputo del coinvolgimento della polizia Siamo confusi su come un'indagine approfondita possa essere condotta Senza parlare con tutti i vicini che abitano in prossimità della casa Scrivono molti di loro in una lettera indirizzata al giornale locale Nel mirino dell'attenzione nazionale finisce Baron Chambliss Un detective veterano della polizia di Westfield che riceve la richiesta di esaminare il caso I Broaddus sono vittime E io non credo che abbiano ricevuto il sostegno di cui avevano bisogno Dice il detective Baron Chambliss sapeva che i suoi colleghi avevano osservato da vicino Michael Langford Secondo il suo fratello, ossia Sally Langford A Michael era stata diagnosticata la schizofrenia da giovane A volte spaventava i nuovi arrivati del quartiere Faceva cose strane come camminare nel loro cortile O sbirciare nelle finestre delle case in via di ristrutturazione Ma chi lo conosce sostiene che le stranezze che fa Sono per lo più insolite gentilezze di vicinato Esceva a prendere i giornali per me ogni mattina Spiega John Schmidt che vive nella casa accanto Persone che conoscono Michael da decenni Sostengono che non sarebbe stato in grado di scrivere quelle lettere O almeno così credono Quando Chambliss esamina il caso scopre qualcosa di sorprendente Gli investigatori avevano condotto un'analisi del DNA Su una delle buste inviate dall'osservatore E avevano determinato che il DNA apparteneva a una donna Chambliss decide di esaminare più da vicino Abby Langford La sorella di Michael che lavorava come agente immobiliare La donna, magari, era arrabbiata perché aveva perso l'opportunità Di conseguire una commissione sulla vendita della casa accanto Siccome Abby lavora anche nel locale Lord & Taylor Chambliss si mette d'accordo con un vigilante Per prendere la sua bottiglietta d'acqua di plastica Durante un turno Il campione di DNA però non corrisponde Il DNA identificato appartiene a una donna sconosciuta Inoltre, come detto prima, un profiler dell'FBI su richiesta dei Broaddus Aveva esaminato le lettere e aveva attribuito la scrittura a una persona anziana O almeno era probabile che lo fosse Non molto tempo dopo, l'ufficio del procuratore Dà a Derek e Maria una notizia inaspettata Non vogliono dire il perché, ma hanno escluso i Langford come sospettati I Broaddus sono sbalorditi Di recente hanno detto ai procuratori che avevano pianificato Di sporgere denuncia civile contro i Langford E si chiedono se i procuratori stiano mentendo Per evitare che la loro storia esploda di nuovo Sally Langford dice La mia famiglia si è trasferita nella casa di Boulevard nel 1961 Non abbiamo mai causato problemi a nessuno Questo tizio riceve delle lettere e all'improvviso Le persone puntano il dito contro di noi Rimasti senza un sospettato i Broaddus Riaprono la loro indagine personale Sono ancora resti a condividere troppe informazioni con i loro vicini Che rimangono nella lista dei sospettati Impiegano un pomeriggio a camminare per l'isolato Con una foto della busta da cui risalta la calligrafia dell'osservatore Sperano che qualcuno possa riconoscerla Un vicino che abita dall'altra parte della strada È l'amministratore delegato della Kroll Una società di investigazione aziendale E i Broaddus ingaggiano la compagnia per cercare corrispondenze con la calligrafia Ma non riscontrano nulla Assumono anche Robert Leonard Un rinomato linguista forense che non trova alcuna sovrapposizione degna di nota Il linguista pensa però che l'autore potesse aver guardato la serie tv Game of Thrones Dove Jon Snow, uno dei protagonisti, diventa un membro degli osservatori delle mura A un certo punto Derek persuade un amico che fa il tecnico informatico a metterlo in contatto con un hacker Che sia disposto a introdursi nelle reti wifi del quartiere per cercare indizi Questa pratica però è illegale e metterla in atto è più difficile di quanto risulta dai film Per cui non vanno fino in fondo Anche Chambliss e la polizia di Westfield tornano al punto di partenza I poliziotti chiedono ad Andrea Woods di prelevare un campione di DNA E interrogano suo figlio 21enne che improvvisamente entra in scena come un possibile sospettato Ma un anno dopo i fatti è difficile trovare indizi validi Le indagini iniziali della polizia erano state così carenti che avevano tralasciato un indizio significativo Nello stesso periodo in cui i Broddas avevano ricevuto la loro prima lettera Anche un'altra famiglia residente lungo la stessa strada aveva ricevuto un biglietto simile dall'osservatore I coniugi di quella famiglia vivevano nella loro casa da anni e i figli erano ormai cresciuti Quindi avevano gettato via la lettera proprio come i Woods Senza darvi peso Ma dopo la diffusione della notizia uno dei figli pubblica un post su Facebook riguardo all'argomento Per poi cancellarlo Quando gli investigatori parlano con questa famiglia I suoi membri confermano che la lettera era simile a quella scritta ai Broddas Ma questa rivelazione rende soltanto il caso più confuso Una notte Chambliss e un suo collega sono seduti nel retro di un furgone parcheggiato su Boulevard Stanno osservando la casa attraverso le lenti di un binocolo Intorno alle 23 un'automobile si ferma e sosta di fronte alla casa abbastanza a lungo Perché Chambliss si insospettisca Rintraccia l'auto e risale a una giovane donna proveniente da una città vicina Il cui fidanzato vive nello stesso isolato della casa presa di mira dall'osservatore La donna dice a Chambliss che il suo ragazzo è coinvolto in Alcuni videogiochi davvero oscuri Incluso uno in cui giocava con un personaggio specifico Ossia l'osservatore Considerando il DNA femminile rilevato Chambliss pensa che la ragazza o un'altra donna Complice del fidanzato possa aver contribuito a inviare le lettere Il ragazzo in questione si trova altrove a quel tempo Ma Chambliss dice che accetta di essere interrogato in due diverse occasioni Ciò nonostante non si presenta nessuna delle due volte Chambliss non ha prove sufficienti per costringerlo a comparire E con l'esaurirsi dell'attenzione dei media Lascia perdere il caso e passa oltre Mentre i Broaddus continuano a essere consumati dallo stress e dalla paura Per il resto degli abitanti di Westfield La storia diviene poco più di un'inquietante leggenda metropolitana La sfida di passare di fronte a quella casa durante Halloween Se si è abbastanza coraggiosi Nessuno che avesse vissuto in quella dimora prima dei Woods Ricorda qualcosa di insolito Ed è difficile per la gente del posto immaginare Che il quartiere idiliaco in cui vive Possa ospitare un personaggio così sinistro Una donna che vive nelle vicinanze Racconta che dopo l'esplosione della notizia Lei e una decina dei suoi vicini Si erano riuniti in strada Per discutere su chi potesse aver inviato le lettere Alla fine, ha detto, erano giunti a una risposta Forse i Broaddus avevano inviato le lettere a se stessi? La teoria è che i Broaddus si fossero resi conto Di non potersi permettere la casa E avessero architettato un macchinoso piano Per sottrarsi al mutuo Oppure Derek stava preparando qualche sorta di frode assicurativa O ancora stavano cercando di ottenere un accordo per un film I Broaddus, come detto, avevano ricevuto diverse offerte Ma le avevano rifiutate Alla fine la rete televisiva Lifetime Aveva distribuito un film intitolato The Watcher Nonostante una lettera di diffida da parte dei Broaddus I quali disapprovavano che la coppia di interpreti era biraziale E che le lettere erano firmate da un certo di Raven Il Corvo Alcuni abitanti locali trovano sospetto che nel corso di un decennio I Broaddus sono passati dal possedere una casa dal valore di 315.000 dollari A una da 770.000 dollari E infine a una da 1.300.000 dollari E che avessero finanziato i loro mutui Poche settimane dopo che le lettere vengono rese pubbliche Il Westfield Leader pubblica un articolo In cui vengono citati anonimi vicini Che si chiedono perché i Broaddus avessero continuato a ristrutturare una casa In cui non si sarebbero mai trasferiti I vicini mettono persone in dubbio che i Broaddus Avessero fatto tutti quei lavori di ristrutturazione Il Leader contesta fin anche l'impegno di Maria nel proteggere la sua famiglia La critica perché ha un profilo Facebook pubblico con una foto dei suoi figli Il giornale però fa anche notare che la polizia aveva effettuato il test sul DNA di Maria E che non era risultato compatibile Nessuna delle teorie aveva molto senso logico in realtà I Broaddus rispondono comunque a tutte le domande Come si passa da una casa dal valore di 300.000 dollari A una da 1.300.000 dollari in 10 anni Derek spiega è l'America Ma i coniugi non parlano pubblicamente e le voci persistono Un residente di Boulevard scrive una lettera all'editore del giornale Insinuando che è in corso un elaborato schema per frodare la famiglia Woods Per milioni di dollari Chambliss tra l'altro sa che alcuni poliziotti di Westfield Erano stati coinvolti da questa teoria Ci sono ancora più scettici online Vive in una città vicina Se queste lettere avessero rappresentato una minaccia in corso da un po' Non c'è dubbio che sarebbero state rese pubbliche molto tempo prima Ecco il mio pensiero Scrive l'utente su Reddit Questa faccenda puzza di truffa Conclude I Broaddus non sapevano come avrebbero reagito i loro vigini Alla notizia dell'osservatore Ma vivevano nella zona da un decennio E la famiglia di Maria era parte della comunità da molto più tempo Quindi era scioccante ritrovarsi accusati di essere dei truffatori A Derek sembra che alcuni abitanti di Westfield preferiscano la teoria della cospirazione Piuttosto che considerare l'eventualità di fronteggiare una minaccia nella loro città C'è una tendenza naturale a dire Ho vissuto qui per 35 anni Non mi è mai successo nulla Quello che è successo alla mia famiglia è un affronto alla loro convinzione di essere al sicuro Non accettano che possa esistere qualcosa come la malattia mentale nella loro comunità Le persone non vogliono credere che questo possa accadere a Westfield Anche se Maria guarda con affetto alla sua infanzia Era nata pochi anni dopo il verificarsi di un brutto fatto di cronaca John List, un residente di Westfield, aveva tristemente ucciso la moglie La madre e i tre figli nella loro casa Maria ricorda un periodo in cui a lei e ad altri bambini veniva raccomandato di fare attenzione a un misterioso furgone che circolava in città Mia madre mi diceva sempre di non sentirmi mai troppo sicura di ciò che aveva attorno Le cose brutte non succedono continuamente ma succedono ovunque Non voleva che pensassi che vivessimo in una cittadina perfetta, dice Maria Molti abitanti locali di fronte a questa vicenda sembrano soltanto preoccupati che la stampa nazionale possa rovinare il buon nome di Westfield Come se il problema sia semplicemente capire se i Broaddus intendono continuare o meno a tagliare il prato Alcuni temono soprattutto gli incendi dolosi e il vandalismo Mark Logrippo, il rappresentante del quartiere del consiglio comunale di Westfield Riferisce che la preoccupazione principale percepita dai residenti riguarda il valore delle loro proprietà e lo stigma del quartiere Dunque i Broaddus vengono immarginati non solo dalla loro casa ma anche dalla loro città Derek vuole lasciare Westfield ma Maria non intende portare via di punto in bianco i suoi figli dal luogo che hanno sempre identificato come casa propria Questa persona ci aveva tolto tanto, così tanto, dice Maria Non gli avrei permesso di prendere di più Due anni dopo l'arrivo delle lettere dell'osservatore i Broaddus si fanno prestare del denaro dai membri della famiglia Per comprare una seconda casa, sempre a Westfield Utilizzano una società a responsabilità limitata per mantenere privata la sua obdicazione Ma rimanere in città è ugualmente stressante La prima volta che Maria lascia andare sua figlia in piscina con gli amici Resta fissare tutto il tempo il tracciatore installato sul suo iPhone Uno dei figli dei Broaddus è a lezione di arte e linguistica Quando l'insegnante apre un dibattito Che dagli alunni se la famiglia di cui raccontava un libro che stanno leggendo Farebbe bene a trasferirsi a Westfield La classe risponde di sì, in parte perché è una città sicura In seguito un bambino dice al figlio dei Broaddus I miei genitori mi hanno detto che non importa quello che dice la tua famiglia Westfield è sicura Nel frattempo i Broaddus devono ancora decidere cosa fare con la casa 657 di Boulevard La loro causa legale è in corso Ma sembra improbabile che abbia successo Alcuni stati richiedono ai venditori degli immobili di rivelare condizioni sociali transitorie Come omicidi o possibili infestazioni Basti pensare a un caso del 1991 Che coinvolse una casa presumibilmente invasa dai fantasmi Un tribunale di New York stabilì proprio che per legge la casa era infestata Purtroppo per i Broaddus il New Jersey non ha una normativa simile Più tardi infatti un giudice respinge la causa A riguardo i Woods parlano solo tramite il loro avvocato E si rifiutano di commentare questa storia Derek cerca allora di affittare la casa al Dipartimento degli Affari dei Veterani E a una società che gestisce case di riposo Nella primavera del 2016 i coniugi rimettono l'immobile sul mercato Sperando che possa suscitare maggior interesse Contano sul fatto che molte persone avevano reagito alle lettere Dicendo che al posto loro le avrebbero ignorate e si sarebbero trasferite lì comunque Derek e Maria organizzano un evento open house molto frequentato Dopodiché trascorrono ore facendo ricerche su ogni partecipante che aveva lasciato la propria firma Confrontano la calligrafia degli intervenuti con quella dell'osservatore Ma ogni volta che un potenziale acquirente esprime interesse E si incontra con l'avvocato dei Broaddus per leggere le lettere Puntualmente poi si tira indietro Onestamente mi tirerai indietro anch'io Lo ammetto Sentendosi a corto di opzioni l'avvocato immobiliarista dei Broaddus propone un'idea Vendere la casa a un costruttore che avrebbe potuto demolirla e dividere la proprietà in due case vendibili Sì ma che i Broaddus porteranno a ricavare dal lotto circa un milione di dollari Su divisione di questo tipo erano diventate comune a Westfield Principalmente con grande disappunto di molti abitanti locali E la casa era situata su uno dei lotti più grandi del quartiere Quando la proposta viene annunciata pubblicamente I gruppi Facebook di Westfield esplodono Alcuni esprimono simpatia per i Broaddus Mentre altri sottolineano che il settore immobiliare è sempre un azzardo Un'altra fazione è convinta che questa decisione è il culmine di una lunga truffa In questa storia di artisti della truffa alla fine non c'è niente di più disturbante di questa mossa Sostiene una donna del luogo Un uomo che aveva allenato il figlio dei Broaddus a calcio Scrive Hanno esagerato fin dal primo giorno La questione è sconcertante per i vicini Che avevano saputo dell'osservatore da una causa legale Avevano sempre trovato strano che i Broaddus Non avessero condiviso più informazioni Sembra che i vicini non capiscano che i Broaddus Stavano eseguendo gli ordini della polizia e cercando di proteggere i propri figli Duri di comprendonio eh Christine Kemp, un'amica dei Broaddus Aveva cercato di difenderli su uno dei forum di Facebook Ma la gente l'aveva attaccata Qualcuno ha chiesto Come facciamo a sapere che non sei tu a scrivere le lettere? Racconta Christine Kemp Quando nel gennaio del 2017 il consiglio di pianificazione si riunisce per deliberare Sulla richiesta della divisione della proprietà in due case vendibili Era già stata dedicata un'udienza di tre ore alla questione Che erano presentati più di cento residenti Uno di essi che abitava dall'altra parte della strada E aveva una figlia che frequentava la stessa classe di uno dei figli dei Broaddus Aveva ingaggiato un avvocato per combattere la proposta Eccolo lì un nuovo sospettato Chi se non l'osservatore sarebbe arrivato al punto di assumere un avvocato Per preservare le fattezze della casa? I vicini esprimono il timore che il piano possa richiedere l'abbattimento di alberi E che le nuove case avrebbero avuto dei garage frontali esteticamente sgradevoli Dopo gli avvocati un corteo di vicini si alza per parlare Glenn Damont Che vive dall'altra parte della strada Dice che la proposta segnerebbe la fine dell'isolato 600 di Boulevard Come lo conosciamo Una donna i cui figli erano stati nella vecchia casa dei Broaddus Per una festa di compleanno Parla a nome di nove vicini I nostri quartieri sono costantemente sotto attacco degli interventi Che riguardano parchi, luci, parcheggi E chi più ne ha più ne metta Dice Se noi non possiamo prendere posizione su Boulevard Dove possiamo farlo? A un certo punto Abby Langford si alza per dire che Lei ha passato quasi 60 anni guardando una casa magnifica Bellissima E non vuole guardare fuori e vedere un vialetto L'udienza dura 4 ore Durante le quali si discute poco Sulla ragione per cui i Broaddus Sono spinti a demolire quella Che era la casa dei loro sogni Qualcuno pensa cosa sarebbe successo Se il pazzo lunatico responsabile di tutto questo Fosse stato arrestato? Dice Tom Higgins Che abita dall'altra parte della strada Verso la fine dell'udienza Tuttavia Higgins fa notare Che non c'è alcuna garanzia Che l'osservatore non invierà altre lettere I proprietari delle due nuove case E sostiene che l'estetica deve indirizzare la scelta decisiva Mettere due case lì darà spicco Come mi ha detto un mio vecchio cliente in Texas Dice Higgins Sebbene alcuni vicini avessero espresso compassione La loro attenzione si focalizza su ciò che i Broaddus Avrebbero guadagnato Da un punto di vista finanziario E su ciò che loro stessi avrebbero potuto perdere Alle 23.30 il consiglio respinge all'unanimità la proposta Un giudice del New Jersey nega successivamente l'appello dei Broaddus Derek e Maria sono sconvolti Del resto anche se il piano fosse stato approvato Avrebbe solo tamponato la loro emorragia finanziaria Oltre al mutuo e alle ristrutturazioni Avevano pagato circa 100.000 dollari di tasse Sulla proprietà di Westfield L'amministratore della città aveva negato loro La richiesta di sgravio E avevano speso ulteriori soldi Indagando sull'osservatore I Broaddus non sono ciechi Sanno che la casa 657 di Boulevard È una bella casa In una bella strada Che vale la pena mantenerla Così com'è Ma sono sorpresi che i loro vicini Non riconoscano la singolarità Della situazione in cui loro si trovano Questa è la mia città Sono cresciuta qui Sono tornata Ho scelto di crescere i miei figli in questo posto Sapete cosa abbiamo passato? Avevate la possibilità Dopo due anni e mezzo Da incubo Di migliorare un po' le cose E avete deciso che questa casa È più importante di noi Ecco come mi sono sentita Dice Maria Il prete che aveva benedetto la casa Aveva partecipato A una delle riunioni Del comitato di pianificazione Ed era rimasto sorpreso Da quante persone Si erano avvicinate a lui Sostenendo che l'intera faccenda Era una bufala Non molto tempo dopo La decisione della commissione urbanistica I Broaddus ricevono una buona notizia Una famiglia con figli adulti E due grossi cani Ha accettato di affittare la casa A 657 di Boulevard L'affittuario dichiara allo star Lidger Di non essere preoccupato Per l'osservatore Due settimane dopo Derek si reca la casa Per occuparsi degli scoiattoli Che si erano insediati sul tetto L'affittuario a questo punto Gli consegna una busta Che era appena arrivata Venti violenti E freddo pungente Al vile e dispettoso Derek E a quella sguardrina Di sua moglie Maria Questa lettera Due anni e mezzo Dopo che l'osservatore era Comparso Spunta fuori dal nulla È datata a 13 febbraio Il giorno in cui I Broaddus avevano Testimoniato Nella loro causa legale Contro i Woods Vi chiedete chi sia l'osservatore? Giratevi idioti Recita la lettera Forse avete pure parlato con me Uno dei cosiddetti vicini Che non ha idea Di chi possa essere l'osservatore O forse lo sapete E avete troppa paura Di dirla a qualcuno Va la mossa Questa lettera è meno elegante E più iraconda Delle altre E sembra che l'autore Abbia seguito Da vicino la vicenda Aveva notato La buona copertura Mediatica Infatti Si legge Ho camminato Accanto ai camion Dei telegiornali Quando hanno occupato Il mio quartiere E mi hanno preso in giro Sugli sforzi investigativi Surrettizi Di Derek Scrive Ti ho osservato Mentre guardavi fuori Dalla casa buia Nel tentativo Di trovarmi Telescopi E binocoli Sono invenzioni Meravigliose Sul tentativo Di demolire la casa Si esprime In questo modo La casa 657 Di Boulevard È sopravvissuta Al vostro Tentato assalto E ha resistito Forte Con il suo esercito Di sostenitori Barricando I suoi cancelli I miei soldati Del Boulevard Hanno eseguito I miei ordini Alla lettera Hanno portato A termine La loro missione E salvato L'anima Della casa Secondo i miei ordini Evviva l'osservatore L'affittuario Pure viene menzionato È spaventato Ma accetta di rimanere Se i Brodas Installeranno Delle telecamere Intorno alla casa E la lettera Indica Che la vendetta Potrebbe avvenire In molte forme Forse un incidente D'auto Forse un incendio Forse qualcosa Di semplice Come una lieve malattia Che sembra Non passare mai Ma che ti fa malare Giorno dopo giorno Forse la morte Misteriosa Di un animale Domestico Le persone care Muoiono Improvvisamente Aerei Auto e biciclette Si schiantano Le ossa Si rompono Era come essere Tornati all'inizio Dice Maria A questo punto Ma ciò vuol dire Che ci sono nuove prove Che potrebbero aiutare A rinvigorire L'indagine Derek porta la lettera Al quartier generale Della polizia Dove un detective Guarda Una mappa Del quartiere E traccia Un cerchio Attorno alla casa Di 300 metri Di diametro Suggerendo Che l'osservatore Deba collocarsi Da qualche parte Lì dentro I Brodas Continuano A pressare Sul caso Ma non c'è Molto materiale Che spinga Le forze Dell'ordine A investigare Cercando In strada È possibile Vedere L'osservatore Praticamente In chiunque I residenti Sospettano Di un adolescente Il cui padre Era cresciuto Dietro l'angolo E di un uomo Che a volte Cammina per il quartiere Suonando un flauto Una coppia Di anziani Che abita Dietro la casa Vive lì Da 47 anni Il marito È l'uomo Che Bill Woodward Aveva visto Seduto su una sedia Da giardino Rivolta verso La casa dei Brodas Una delle loro figlie Aveva sposato Un uomo Cresciuto Proprio A 657 Di Boulevard Ma questi Sono frammenti Di informazioni Che possono significare Tutto o niente A seconda Di come li si analizza I Brodas Inviano nuovi nomi Agli investigatori Ogni volta Che notano Qualcosa di strano Ma la loro Paura più grande È che L'osservatore Possa essere Qualcuno Di cui non hanno mai Sospettato I Brodas Non vivono più Nel timore Costante Che l'osservatore Possa colpire In qualsiasi momento Ma continuano A subire Gli effetti Conturbanti Delle lettere E altri problemi Hanno un nuovo inquilino A 657 Ma l'affitto Non copre il mutuo I loro figli Vengono presi in giro A scuola E le voci Cospiratorie Persistono I Brodas Cercano di evitare Le persone Che si erano Espresse Contro la loro richiesta Alla commissione urbanistica O che Li avevano accusati Di essere dei truffatori Ma la vita di periferia Lo rende impossibile Vedo queste persone Sul campo da calcio Alla stazione ferroviaria E il mio cuore Inizia a battere Come faceva Quando giocava a hockey Dice Derek Quando Maria Si trova A una lezione Di spinning All'EMCA Con il capo Del consiglio Di pianificazione Si avvicina a lui E gli dice Tu Tu continui a ferire La mia famiglia Ogni giorno Poi il consiglio Di pianificazione Ha approvato Il frazionamento Di un lotto Dietro l'angolo Che richiedeva Un'eccezione Ancora più grande Di quella Auspicata Dai Brodas La maggior parte Delle persone A Westfield Ormai pensa Raramente All'osservatore Il mercato immobiliare Sta andando bene E molti Sono sorpresi Nello scoprire Che i Brodas Stanno ancora Avendo a che fare Con quel problema A posteriori Derek e Maria Si fanno molte domande Forse avrebbero dovuto Vendere la casa Fin dall'inizio Anche se in perdita Forse quella casa Evocava troppo Dolore emotivo Perché potessero Addirittura Considerare l'idea Di trasferirsi lì Terano che alcuni anni Di affitto Senza incidenti Gli aiutino A vendere la casa L'ufficio del procuratore Stava proseguendo Con le indagini Ma i Brodas Sapevano Che era improbabile Che l'osservatore Venisse catturato In caso contrario Era comunque possibile Che la condanna Sarebbe stata minima L'osservatore Inoltre Non era più L'unica persona Che inviava lettere Anonime A Westfield Durante la vigilia Di Natale Infatti Diverse famiglie Avevano ricevuto Una busta Nelle loro cassette Della posta Erano state consegnate A mano A casa delle persone Che erano state Più attive Nel criticare I Brodas Online Un utente in particolare Che viveva A pochi isolati Di distanza Sul Boulevard Aveva scritto Su Facebook Vorrei che potessimo Tornare ai tempi Del catrame E delle piume Ho in mente Proprio La coppia giusta Un'altra famiglia Che aveva ricevuto La lettera Riferì Che era Stranamente poetica Come lo era stata Quella dell'osservatore Il mettente Accusava Le famiglie Di false speculazioni Inaccurate Sui Brodas Le lettere Dattilo scritti Erano firmate Tutte da Amici della famiglia Brodas L'autore delle lettere Era stato chiaramente Contagiato Non solo Dall'inclinazione Dell'osservatore Per i messaggi Anonimi Ma anche Da un risentimento Che ribolliva Un risentimento Che si era fatto Strada A Westfield Rendendo i vicini Nemici tra loro Le persone Che ricevevano Le lettere Non sapevano Chi le avesse inviate Ma il tono Suonava familiare Infatti Quelle lettere Le aveva scritte Proprio Derek Non ne andava fiero Non l'aveva detto Nemmeno alla moglie E sosteneva Che erano Le uniche lettere Anonime Che aveva scritto Ma si era sentito Spinto al limite Era stufo Di restare a guardare In silenzio La gente Che scagliava Contro la sua famiglia Delle accuse Basate praticamente Sul nulla L'osservatore Era ossessionato Dalla casa A 657 di Boulevard E Derek A sua volta Era diventato Ossessionato Dall'osservatore E da ciò Che le lettere Avevano messo in moto Saluto alla stazione Ferroviaria Di Westfield Derek Apre l'ennesima busta Per leggere La quarta lettera L'ultima Sei disprezzato Dalla casa E l'osservatore Ha vinto Questo inquietante caso Continua a catturare L'attenzione Dei residenti Di Westfield E dei personaggi Di Hollywood Si ipotizzava Che stessero girando Un film O un progetto televisivo Basato su questa vicenda E in effetti Netflix ha lanciato Da poco Una serie tv Ispirata a questa storia Si intitola The Watcher Voi l'avete vista? Io non ancora Ma lo farò presto Perché ho già sentito Molte critiche A riguardo Quindi fatemi sapere Se l'avete vista Se l'avete apprezzata Oppure no Detto questo Io ho finito di parlare In questo video Spero ovviamente Che questo video Possa essere stato interessante Per voi Come al solito Ci vediamo nei commenti Ci becchiamo nei commenti Fatemi sapere Cosa ne pensate Di questo caso Ma soprattutto L'avevate mai sentito? Dimmi sapere Quello che volete Qui sotto nei commenti Nel frattempo Vi mando Un bacione Noi ci vediamo Prestissimo al prossimo video Mi raccomando Fate i bravi Continuate a mangiare le verdure Che continuano a far bene Ma soprattutto Prendetevi cura di voi E fate ciò che vi rende felici Basta che non facciate nulla Di criminale Ciao a tutti